Giornata dedicata al ricordo, alla memoria e da qui parte anche un importante messaggio di pace. Assolutamente sì, Montesilvanno nel 2008 ha inteso organizzare un evento, questo del premio Nassiria, per commemorare quanti sono stati, purtroppo hanno perso la vita nel 2003, nel virio attentato di Nassiria, ma anche più in generale per ricordare tutti coloro che nell'operare per la pace, nell'operare il segnale di guerra, hanno purtroppo poi perso la loro esistenza. Ma è un'occasione questa quest'anno, oltre che per riconoscere agli operatori delle forze dell'ordine, dei militari e volontari, i meriti per delle operazioni svolte durante l'anno, anche per lanciare un monito affinché chi più in alto possa capire quanto la guerra porta solo male e quanto sia il caso di restituire al mondo la pace che ne venga. Benissimo, grazie Sindaco.